Al congresso oggi delle cooperative del comparto agroalimentare, lei ha sottolineato la capacità imprenditoriale di queste cooperative. Sì, le cooperative svolgono in Liguria, ma in tutta Italia, un ruolo eccezionale, perché proprio la specifica del mondo della cooperazione unisce imprenditorialità, quindi capacità professionali con un grande senso di rispetto e di aiuto verso le persone, perché le cooperative danno lavoro, danno economia al territorio e sono una realtà straordinaria. Le istituzioni, e ho voluto rimarcarlo in questo bellissimo incontro qui a Taggia, devono assolutamente ascoltare questo ambiente che porta consigli, proposte, spesso utili anche per contrastare una crisi che sta colpendo il nostro Paese e quindi le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e di seguire quelli che sono anche i suggerimenti che arrivano da un mondo che conosce bene il territorio, che si confronta sempre col territorio e che può dare quelle possibilità di sviluppo economico che altrimenti non ci sarebbero. In un territorio così fragile, cooperative impegnate in questi settori sono fondamentali anche per difenderlo, questo territorio? A noi serve il presidio del territorio, quello che è più pericoloso proprio anche per la fragilità della Liguria è l'abbandono del territorio o che il territorio sia trascurato, quindi il fatto che ci siano imprese cooperative che vivono il territorio, che seguono il territorio è di fondamentale importanza anche per quei settori non interessati dal mondo delle cooperative, da questi professionisti che ripeto uniscono professionalità, passione e tanto cuore perché grazie alle cooperative si garantiscono ogni anno posti di lavoro si garantiscono prospettive che ripeto altrimenti non ci sarebbero.